5 persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Lucca poiché percepivano reddito di cittadinanza nonostante non avessero titolo. La prima aveva vinto la lotteria ma continuava a riscuotere l'assegno. Non si tratta del divieto di utilizzare il reddito spendendolo in giochi, hanno spiegato i finanzieri. La normativa fa infatti rientrare i proventi delle vincite tra i casi di revoca quando comportano il superamento della soglia del patrimonio detenuto. Altra situazione ha riguardato una persona che ha percepito il reddito di cittadinanza per circa 14 mila euro dopo aver presentato una dichiarazione non veritiera circa la residenza sul territorio italiano in quanto non era trascorso il previsto periodo minimo di permanenza continuativa di due anni. Nello stesso ambito sono state scoperte le posizioni di due individui che si sono per così dire dimenticati di comunicare le variazioni patrimoniali derivanti rispettivamente da una eredità e da una indennità dell'INAIL per infortunio sul lavoro. Infine è emersa la posizione di una donna che ha omesso la comunicazione ed inizio attività di un componente del nucleo familiare percependo indebitamente un beneficio di quasi 6 mila euro. Tutti e cinque rischiano una pena fino a sei anni. I rilievi sono stati comunicati all'INPS che ha revocato i singoli benefici provvedendo a sospendere l'erogazione e a elevare le connesse sanzioni amministrative.